salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo in una location innevata siamo a circa 1500 metri d'altezza e ho portato con me un drone che mi sorprende sempre di più ogni volta che vado ad utilizzarlo e il drone di cui vi sto parlando è lui il fimi x8 mini v2 un drone che veramente rapporto qualità prezzo è incredibile come sapete lui è disponibile anche su amazon è disponibile venduto direttamente da fimi su amazon italia quando è a prezzo pieno costa intorno ai 300 euro nella versione con una batteria il prezzo aumenta se si compra la versione con più batterie e delle volte costa addirittura meno di 300 euro quando è in promozione ed è un drone veramente pazzesco oggi lo proviamo in una situazione come questa dove c'è un sole incredibile riflessi della neve quindi una situazione veramente critica per le videocamere nel gestire questa tanta luce che gli arriva nel sensore soprattutto camere di queste piccole dimensioni poi lui non ha filtri quindi non utilizzo nessun filtro per andare a migliorare appunto la situazione della luce che entra nella videocamera ma lo utilizzerò così come esce dalla casa fini e una cosa ovviamente interessante anche quello che il video che andrete a vedere non è in con nessuna color correction quindi sarà come lo registra lui direttamente nella micro sd in 4k 30 fps quindi è un cinematic video che volevo portare da un po di tempo per quanto riguarda questo drone che ho già recensito in tutte le sue funzioni in tutte le sue qualità mi mancava proprio portare in una location dove vedere la qualità della fotocamera perché comunque loro sono droni cinematografici quindi detto tutto questo e fatta tutta questa premessa direi di non perdere altro tempo e gustiamoci questo cinematic video per vedere la qualità reale di questo drone fimi x8 mini v2 drone a 249 grammi e ora ragazzi decolliamo buon divertimento è tutto in our hands this life of time it's given to us all it gathers round each night each morn we watch it pass and grow we watch it pass and grow it is all in our hands 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.